Ieri in Consiglio Comunale a Terramo è approdata la transazione che permette di far ripartire i lavori in corso San Giorgio. Il provvedimento è stato approvato. Raimondo Micheli, consigliere comunale di minoranza, ha abbandonato l'aula nel momento del voto. Perché? Non è stata una protesta. Intanto questa è una ferita aperta che la città si porta avanti da anni. È la ultimazione dei lavori della parte più importante della nostra città, del corso San Giorgio, del corso Cerulli e dei Michetti. La mia non è stata una posizione di assenza, ma nel momento in cui si pone una transazione che questa maggioranza ha voluto, così, insieme all'impresa, realizzare, non mi vede partecipe. Nel momento in cui forse l'atto doveva essere portato in giunta e non... Non solo in giunta, secondo lei? A modo di vedere, probabilmente lì c'è un parere discordante o meglio non favorevole da parte del segretario, però è un atto che si poteva tranquillamente proporre in giunta, visto che i lavori sono rimasti gli stessi, la ditta è la stessa, l'importo è lo stesso. È chiaro che è una transazione dove vede soccombere il Comune per alcune inadempienze del passato, del quale io poi non voglio entrare nel merito. Il Comune dovrà anche pagare una quota? Ma assolutamente sì, una quota importante. È chiaro che ci sono state delle riserve da parte dell'impresa sull'esecuzione dei lavori, ci sono stati dei fermi, dei lavori che hanno portato l'impresa poi a produrre quegli atti di riserva, ci sono stati degli stati d'avanzamento, scusi, ci sono stati delle perizie di variante per cui l'impresa ha ritenuto di dover sospendere i lavori e nello stesso momento produrre delle riserve. Io su questi documenti sinceramente non me la sono sentita di esprimere il mio pensiero, sono lavori del passato, sono lavori dei quali chi ha assunto le responsabilità, c'è un RUP, c'è una direzione dei lavori, c'è un'impresa, c'è un ufficio e quindi se ci sono delle mancanze saranno poi in tempo debito analizzate e dovute. Pertanto una transazione che non doveva, secondo me, venire in Consiglio, anche se oggi qualcuno potrebbe dire che il fatto per cui sono venuti in Consiglio gli atti è perché, secondo il Segretario, poiché ci sono state un'interruzione, ci sono state una ripresa successiva dei lavori, sarebbe stato opportuno portarlo in sede consigliare. È stata una votazione che ha visto poi l'atto votato favorevolmente da gran parte di tutti i consiglieri della maggioranza, anche di qualche consigliere, tra virgolette, dell'opposizione. Quindi credo che su questa ferita aperta si possa da qui tirare una linea di demarcazione e ripartire con un nuovo percorso che la Giunta ha voluto presentare, che è quella di un rifacimento non totale ma parziale, quindi un rimodellamento di quello che è il corso dei Michetti, per cui si andrà a insistere, così come hanno spiegato già gli assessori e i tecnici, soltanto sulla parte laterale in aderenza ai muri delle abitazioni e parliamo esattamente dei marciapiedi.